Parallelamente alla prima squadra, la Pistoise sta lavorando anche intorno al settore giovanile, grazie soprattutto all'impegno del neodirettore Andrea Innocenti. Nella prossima annata la società parteciperà ai campionati Berretti, Under-17 Lega Pro, Under-15 Lega Pro, Giovanissimi Regionali Professionisti con due squadre, Giovanissimi Regionali B Professionisti con due squadre, Esordienti 2006 e 2007, Pulcini 2008 e Primi Calci 2009. La formazione degli allievi B non verrà allestita ma rientrerà in un unico organico che andrà a comporre la formazione degli Under-17. Intanto la Pistoise rende nota la conclusione del rapporto di collaborazione con i Ramini, al quale si legge in una nota va il più sentito ringraziamento per quanto fatto in questi anni di ricostruzione del vivaio. Conclusa anche la collaborazione con Alfio Berti e Maurizio Gherardini, ai quali vanno i consueti ringraziamenti per il lavoro svolto.